il bisacchio bisogna dargli una mano tira la succhia e c'è la benzina ma questo è il pezzo facile è più facile di là, molto più facile diamogli un'altra chance grazie a tutti vai che ce la fai rifalla girala e rifalla dai che c'è la benzina girala, rifalla, a stecca va figurati sei tutto buscoli cazzo vai che marcia eri? che marcia eri? prima seconda devi farla seconda, prendi un po' di velocità chiaccia la frizione vai dietro piano piano poi ti giri e la rifai a stecca in seconda ma a stecca tu devi andare solo dritto, devi andare solo dritto, questa è l'ultima rampetta poi è tutto facile poi ovviamente devi anche scendere beh ma scendere basta che molli freni ma non sei, non vai meglio dalla parte sinistra della moto che dalla parte destra a muoverla? infatti vieni di qua sei mancino? usa i consigli di Dennis Fasola usa i consigli di Dennis Fasola come affrontare la caduta io prima finite le scale perché se li ha fatti i piani mi sono formato lì non riuscivo più a ripartire quale scale? le scale dai Fabio c'hai un mese in più eh? immagino più o meno più o meno un mese c'era il computer con internet vero? ecco riguardati solli è un traditore prendi un po' bene ma salta in moto gira vai giù e risali fa uno anche a ritorno anche da solo va basta che fa uno da solo esatto adesso arriva ancora uno ah è lui deve arrivare uno non è lui che sta portando avanti se non è ritorno così è lui io parto da qua sta girando la moto ma cosa è tornato indietro a fare? era un pericolio sei troppo o uno? grazie prendi il tempo? è qua è qua galera bravo bravissimo esagerato non vado più fuori ma col motore acceso si fa questa cosa col motore acceso con la marcia in prima ma così fa più fatica ma perché? sta arando il terreno quando lo so avrà Iron Man non so se orriamo? bravo ma è finita ora siamo arrivati speriamo bravissimo qui è Grazie.